e riviusi a sml ciao a tutti benvenuti come state spero tutto bene oggi andremo a mangiare dei ciuccetti super super fantastici li mettiamo tutti qua in fila ecco qua ci uccetti ci uccetti ci uccetti ci uccetti ci uccetti ci a cura ok ragazzi cominciamo subito la manzara gusti bellissimi giocini spi pi 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Buon appetito! Sì, è molto bello. Grazie a tutti. Sì. Sì. Sì Il nostro nostro corso gratuito è www.mesmerism.info bene ragazzi grazie a tutti per aver visto questo video ci vediamo alla prossima ciao